Buonasera, per la prima volta in 25 anni di storia della comunità europea il vertice dei capi di governo della CE si è concluso ad Atene senza neanche una dichiarazione finale. È la prova del completo fallimento del vertice che non è riuscito a risolvere nessuno dei problemi sul tappeto, né quelli del settore agricolo, né quello dei rimborsi richiesti dalla Gran Bretagna, né i tempi di ingresso nella comunità di Spagna e Portogallo. L'esito di questo nostro incontro, ha sottolineato Craxi, ci spingerà verso una riflessione di fondo sul futuro della comunità, sui suoi obiettivi, sui suoi contenuti, le sue politiche, le sue regole interne. Stamane il primo ministro greco, Papandreu, aveva tentato un compromesso dell'ultima ora, ma Germania e Gran Bretagna si sono opposte. Il nostro ministro degli esteri, Andreotti, ha criticato anche il fatto che nel vertice non si siano potuti affrontare a causa delle diatribe interne i grossi problemi di politica internazionale del momento. A questi problemi sarà dedicata domani la riunione del Consiglio di Gabinetto, convocato da Craxi al suo rientro da Atene. Si parlerà soprattutto del Libano. A questo proposito oggi il ministro della difesa, Spadolini, ha avuto un colloquio con il segretario alla difesa degli Stati Uniti e con il suo collega britannico. Domani pomeriggio Andreotti ha un appuntamento con il segretario di Stato americano Schutz, prima del previsto consulto a quattro sulla forza multinazionale di pace. Sulle decisioni che verranno prese in questo incontro naturalmente nessuna indiscrezione, ma una cosa è certa, il conflitto medio orientale si sta sempre più allargando. Dopo l'attentato di ieri a Beirut in cui hanno perso la vita 16 persone, un'altra bomba esplosa oggi a Gerusalemme e altre quattro persone hanno perso la vita. L'attentato è stato rivendicato dall'OLP e sono in molti ora a chiedersi quale risposta Israele intende dare al clamoroso gesto dei palestinesi. Ancora una volta a pagare, sono state vittime innocenti. La bomba esplosa all'interno di un autobus pubblico, pieno di donne, bambini e anziani. Negli ospedali sono ancora ricoverate 46 persone, alcune delle quali ferite gravemente. Si svolgeranno domani alle 10.30 in Piazza Montecitorio a Roma i funerali di Stato del senatore Umberto Terracini, morto stamane nella sua abitazione. Oggi pomeriggio la figura di Terracini, comunista, considerato uno dei padri della Costituzione, è stata ricordata in una seduta congiunta della Camera e del Senato dai Presidenti Cossiga e Iotti. La sua scomparsa, ha sottolineato il Presidente del Senato, lascia in ciascuno di noi un sentimento di profondo rimpianto. A sua volta la Iotti ha ricordato la grande battaglia svolta da Terracini per l'emancipazione dei lavoratori, battaglia che ne ha fatto un protagonista del movimento operaio. In mattinata il Capo dello Stato aveva inviato ai familiari del senatore scomparso un telegramma ricordando l'amico e compagno di lotta, impareggiabile Presidente dell'Assemblea Costituente, da lui guidata, si legge nel telegramma di Pertini, con grande autorità e saggezza. Bombardato dai flash dei fotografi che non lo hanno lasciato un solo minuto, Marco Barbone ha risposto stamane a Roma alle decine di domande del Presidente della Corte che sta attualmente giudicando gli imputati nel cosiddetto processo 7 aprile. Barbone era stato convocato come imputato a sua volta in un procedimento connesso ed era giunto nell'aula sotto scorta partendo da un luogo imprecisato. Nella sua deposizione il giovane, che lo ricordiamo si professa pentito, ha duramente criticato quanti si riconoscevano nella rivista Rosso, indicando precise responsabilità a carico di alcuni dei principali imputati del processo romano. Barbone ha fornito una serie di dettagli sull'organizzazione politico-militare che ruotava intorno alla rivista, affermando in particolare che molte armi provenivano direttamente dalla redazione di Rosso. Tre notizie di cronaca prima di seguire insieme un servizio da Milano. Respinto a Caltanissetta l'eccezione di nullità avanzata dai difensori degli imputati per la formula di rito sommario adottata nell'inchiesta dal procuratore Patanè. Dopo sei ore di Camera di Consiglio la Corte ha deciso che il processo continuerà. Fermato a Roma e messo agli arresti domiciliari, il produttore cinematografico Mario Cecchi Gori è accusato di diversi reati valutari. Analogo ordine di cattura nei confronti di Angelo Rizzoli già in carcere e di una terza persona di cui non sono state fornite le generalità. Ancora un blizzo della Guardia di Finanza a Sanremo, un assessore e due consiglieri comunali sono stati arrestati in base alla stessa accusa, corruzione continuata, che ha portato già in carcere il sindaco, altri due assessori e un altro consigliere comunale. Le condizioni di salute di Enzo Tortora in carcere dal giugno scorso per presunte collusioni con la Camorra si sono notevolmente aggravate. Per questo motivo i suoi avvocati, dall'ora della Valle Coppola, presenteranno domani a Napoli la richiesta di libertà provvisoria per il popolare giornalista e presentatore. L'annuncio è stato dato questa sera a Milano dai legali di Tortora, i quali hanno sottolineato che tale richiesta è esclusivamente motivata da una loro responsabilità morale, derivata dall'aggravarsi dei disturbi cardiocircolatori, ossei e psicologici di Tortora, soprattutto i primi, come comprovato da perizie mediche. Tortora, ha detto il professor da allora, vuole uscire dal carcere con la patente dell'innocenza. Non voleva che chiedessimo la libertà provvisoria, ma siamo stati costretti a farlo proprio perché le sue condizioni fisiche sono talmente gravi da farci addirittura temere che se la sua carcerazione dovesse protarsi, non sappiamo se riusciremo a portarlo vivo al processo. I difensori di Tortora, sempre rinchiuso nel carcere di Bergamo, hanno oltresì osservato che in via subordinata hanno chiesto per il presentatore gli arresti domiciliari. Quanto alla sua situazione processuale, gli avvocati hanno rilevato che si evolve in favore del giornalista. Molti di voi la ricorderanno come l'interprete di una famosissima canzone, Parlemua d'Amour, che nel 1930 le valse il primo premio del disco appena creato. Era cantante Lucien Bouaillet, morta stamane a Parigi all'età di 82 anni, probabilmente per una emorragia cerebrale. Lucien Bouaillet aveva festeggiato nel 1976 i suoi 50 anni di attività canora e in una festa organizzata tutta per lei 15 giorni fa, aveva cantato per l'ultima volta in pubblico la sua Parlemua d'Amour. La Bouaillet aveva fatto il suo debutto a 14 anni, durante la Prima Guerra Mondiale. Molti la ricorderanno con nostalgia. Ed ora vediamo le previsioni del tempo per domani. Al nord sulle regioni centrali tirreniche, sereno, poco nuvoloso. Rapido peggioramento invece sulle zone centrali adriatiche, al sud e sulle isole, con piogge e nevicate anche a basse quote. Una notizia curiosa per chiudere. Jack Dyer, operaio americano di 30 anni con tre figli a carico, non può certo dire che la fortuna con lui è stata cieca. Lo stesso giorno in cui veniva licenziato dal suo datore di lavoro, ha vinto all'otto la cifra record di 2 milioni e 900 mila dollari, pari a quasi 4 miliardi di lire. Per scegliere i sei numeri fortunati, l'operaio si è ispirato alle date di nascita dei figli. Con la colossale vincita comprerà un autocarro, metterà a posto casa e farà studiare i figli. Sarà il più bel Natale della mia vita, ha commentato Jack Dyer e non si fa fatica a credervi. È tutto, grazie dell'attenzione e arrivederci.